Primo video con la nuova fotocamera Sony, probabilmente siete anche un po' storte, però ho poggiato sul letto quindi è un video molto improvvisato. In realtà volevo riprendere una serie di video che facevo un po' di tempo fa dedicati a, mi scuso anche per il retro, dedicati ai prodotti preferiti del mese e visto che settembre è appena passato ho detto sono ancora in tempo e quindi lo giro immediatamente. Allora in realtà sono prodotti vari, non solo prodotti beauty e infatti inizio con un prodotto che vi ho mostrato tantissimo sui social live tipo Snapchat o Instagram Stories che è questa qui che è l'agenda, 16 mesi, che ho acquistato sul sito Mr. Wonderful che finalmente è arrivato anche in Italia. Io ho scelto questa che nello specifico è la settimanale, è ben fatta, ha un sacco di fumetti motivazionali e frasi varie e alla fine, cosa che non guasta mai almeno personalmente, ha tantissimi adesivi e ovviamente gli adesivi questa volta sono in italiano. Ha questo lacettino che serve per segnare il giorno, che anche questo è fondamentale, e ha un sacco di tasche e taschine, taschette, sia all'inizio che ovviamente cade roba, che in fondo e la trovo super comoda anche e soprattutto perché ha la copertina morbida che è una cosa che io cerco nelle agende praticamente da sempre, perché poi quando la butto in borsa ho bisogno che si adatti leggermente anche ai movimenti delle borse che ho. La cosa particolare e per me fondamentale è il fatto che questa agenda ha 16 mesi, cioè parte dal settembre di quest'anno e arriva al dicembre dell'anno prossimo, cioè del 2017. È fondamentale per me perché riesco a scrivere e appuntarmi già, senza aspettare dicembre o fino a novembre, le spose del 2017, quindi come sapete io a novembre circa inizio a prendere gli appuntamenti per l'anno successivo, in realtà ne ho già per il 2018 e quindi quest'anno mi sono tirata avanti, ho iniziato e ho anticipato, diciamo, le prenotazioni. Quindi è fantastica, la trovate anche giornaliera, le trovate anche in formato più grande e sono veramente veramente bellissime e sono super contenta dell'acquisto. Ho già ovviamente iniziato ad utilizzarla da un mese e mi trovo benissimo. Il mio problema con le agende è che devo avere la capacità visiva di memorizzare la settimana, per questo io vado bene con le settimanali, perché io mentre scrivo le cose poi mi ricordo dove sono posizionate sull'agenda e quindi automaticamente se non dovessi avere l'agenda con me e devo ricordarmi su qualcosa il giovedì di quella settimana, a livello visivo mi ricordo che in quel pezzo di agenda ho scritto qualcosa e quindi me lo ricordo più facilmente. È una cosa un po' strana, è una cosa mia, però vabbè. L'altra cosa che ho scoperto tramite voi e tramite ovviamente Snapchat è l'esistenza di queste penne che ricordano un po' le vecchie penne che utilizzavo quando andavo a scuola che si cancellavano, di cui ignoro il nome in questo momento. E queste nello specifico sono della Pilot o Pilot, non so come si dica, e si chiamano così. Sono fantastiche perché non avete gommini che si perdono in giro per la borsa, ma in particolare si cancella con questo gommino alla fine. Mi hanno però scritto subito, appena le ho mostrate che le avevo acquistate, che bisogna essere attenti perché se l'agenda viene sottoposta a fonti di calore o lasciata anche semplicemente in macchina con un po' di sole può succedere che alcune scritte si cancellino, quindi per poi far ritornare le scritte bisogna metterla in frigo o in freezer, non mi ricordo. Bisogna comunque raffreddarla. Questa cosa mi ha un po'... Però per ora non mi è successo niente, queste penne sono fantastiche perché io sono una grandissima pasticciona quindi scrivo, cancello, riscrivo... erano un casino le mie agende. Ho scoperto questa penna ed è... cioè la trovo super utile. C'è in vari colori, c'è anche rossa, blu e mi sembra verde. Poi, un consiglio per lui. Questo l'ho ricevuto e l'ho regalato a Fra, è finito purtroppo. Di questa marca che io non conoscevo assolutamente e che a prima vista ho detto è una cinesata, invece in realtà è made in Italy. Si chiama Barberia Colonna, il profumo si chiama Originale e è uno de parfum di Nio & Co. Questa è la marca che produce questi profumi, questo profumo che è, vi giuro, un profumo super super fresco che lui ha iniziato a mettere e tutti gli chiedono che profumo è. È veramente un profumo buonissimo che non ha niente da invidiare a profumi super costosi. Vi metto il link qua sotto per farvi capire dove lo potete trovare. E se qualcuno di voi l'ha provato, perché io ne avevo due profumazioni, avevo questa e un'altra che è sempre un po' maschile, me l'ho data mia mamma perché lei ama le profumazioni maschili. Però vi garantisco che questa qua, cioè mi dispiace che Fra l'ha finito, ma penso che glielo ricomprerò perché è piaciuto tantissimo anche a lui, che lui è un po' viziatino sui profumi. E' fantastico, adesso ho dei prodotti da provare di questa linea, ovviamente avendo avuto un grandissimo successo questo profumo sono curiosa di provare anche tutti i detergenti che mi avevano mandato e voglio assolutamente testarli, quindi poi vi farò sapere. Un prodotto che ho scoperto da Sonia, Sonia Grispo, con la quale ho una grandissima corrispondenza su Snapchat quotidianamente ma che anche frequento tantissimo, avrete visto quando vado a Milano ultimamente perché si è trasferita lì. Essendo con il fidanzato spesso ci troviamo agli eventi insieme e quindi ci stiamo frequentando e ci scambiamo un sacco di consigli sia culinari che beauty che di moda eccetera. E quindi insomma spesso, io sgrido lei, lei sgrida me, però le avevo notato che aveva questo smalto bellissimo e siccome l'ho messo in alcune foto ultimamente, e molti di voi mi hanno scritto per chiedermi che smalto era e quindi ve lo faccio vedere. È indubbiamente tra i miei smalti preferiti di questo periodo, non si vede niente comunque si chiama Gatsby, è di Marc Jacobs ed è un metallizzato, metallico più che metallizzato, sul rosato. È molto bello, è anche abbastanza facile da stendere, avevo un bruttissimo ricordo di questo tipo di smalti avevano una grande difficoltà, stratificavano a livello, si sovrapponevano, invece questo devo dire che mi sono trovata abbastanza bene e dura anche abbastanza. Poi, immancabile in borsa da mesi, questi disinfettanti che trovate da Sephora, della linea Merci Handy questo è la profumazione Lollipop, mi piacciono tantissimo anche la profumazione Sherry e la profumazione Vanilla, credo qualcosa queste le devo ancora provare, ma, cioè, le hanno usate, mi piaceva li finisco alla velocità della luce e li ricompro subito li trovate di solito verso le casse da Sephora nella zona dove ci sono anche tutte le mini taglio, comunque, le spugnette, insomma, verso le casse comunque ci sono anche loro dentro hanno queste microparticelle che mi sembra che siano, oltre a essere ovviamente un gel detergente e anche leggermente idratante io vi dico, di solito, con i gel detergenti mi trovo malissimo perché mi seccano tantissimo le mani e puzzano a morte invece questi qua mi piacciono tanto, anche perché non mi danno fastidio, nonostante la profumazione se dopo devo utilizzare le mani per mangiare, allora tendenzialmente tendo ad andarmi a lavare le mani però ci sono alcune situazioni dove non avete modo di lavarvele e quindi io ho sempre questi viaggiando anche tantissimo in borsa e veramente è un prodotto che non manca mai poi, non so assolutamente da dove venga me lo sono ritrovato tra i prodotti che avevo messo da provare e ho iniziato a provarlo e ragazzi, è la vita prodotto per capelli bifasico di questa linea Eufitos Made in Nature Color Save Luxe Air Complex bifasico non so che roba è non so chi me l'ho mandato non so se l'ho trovato in una My Beauty Box non so niente ma è un prodotto fantastico ora lo vedete mescolato però è in realtà un prodotto bifasico a spruzzo quindi ha l'erogatore a spruzzo lo do sui capelli umidi prima di procedere con l'asciugatura e mi fa dei capelli li ho lavati ieri sera super super lucidi e anche molto facili da pettinare quindi è un prodotto appunto a spray bifasico qua dice per capelli colorati a base di Luxe Air Complex un processo fitoterapico di fiori di visco e filtri naturali che difende i capelli dal sole dai danni del fotoinvecchiamento che indeboliscono la struttura del capello e impoveriscono il colore la sua speciale formula istantanea doppia fase dona rapida protezione ai capelli ottimo da usare al mare o in piscina ok Roby sei arrivata un po' tardi indubbiamente ma meglio tardi che mai e ragazzi io lo sto usando anche ora e non me ne frega niente e è un prodotto veramente veramente ottimo non so cioè se non so neanche dirvi dove lo potete trovare adesso lo googlerò magari vi metto un link qua sotto se trovo qualcosa è ottimo veramente sono rimasta senza parole poi tempo fa quando sono stata a Singapore nel mio viaggio che ho fatto a giugno vi avevo mostrato nello shopping a Singapore un pennello cioè lui della linea di questi pennelli diciamo che aveva lanciato anche Mac però nello specifico sono io li chiamo i pennelli per l'autotrucco nel senso che se andate a truccare qualcun altro con un pennello del genere non è che andate molto bene però per utilizzarli su se stessi su se stesse è fantastico cosa volevo dirvi ok questo l'ho comprato a Singapore ed è di Etude House la linea coreana ma su Amazon ho trovato i fratelli europei forse non lo so o cinesi che sono forse ancora meglio di quello oltretutto questo è fantastico e si chiamano precisamente Party Queen sono bellissimi c'è anche quello per il correttore o per fare la sfumatura orizzontale e quello piccolino che io uso per un sacco di roba anche per tipo lavorare o fare dei punti luce o andare a sfumare l'ombretto nella piega oppure questo qua un pochino più grande è sempre piatto io ragazza all'inizio ho detto non li userò mai in realtà mi porto via solo questi ultimamente e li uso per tutto questo lo uso addirittura per pressare la cipria nei punti dove divento molto più lucida e poi tenendolo un pochino più leggero la sfumo via lo uso anche per il fard lo uso per no questo lo uso un sacco per fare tipo il contouring che poi sfumo con questo insomma li uso tantissimo ovviamente io vendo anche l'intermedio questo lo usavo per il fondotinta se non ho tanto tempo il fondotinta lo stendo anche con questo qua insomma li trovate costano una cazzata su Amazon vi metto ovviamente il link del venditore qua sotto mi strucco da un paio di settimane con questo prodotto che è un prodotto di idea terra ed è un olio idrofilo struccante detergente rivitalizzante viso e corpo con olio di viso e girasole io odio gli oli ma devo dire che questo qua è stato una bella scoperta soprattutto quando sono prodotti di aziende che stimo e dei quali conosco gli ottimi ingredienti che utilizzano cerco sempre di dare una possibilità al prodotto questo nello specifico adesso volevo leggervi se c'era scritto qualcosa sugli ingredienti ma io non ci capisco niente quindi magari vi metto direttamente le foto come lo utilizzo? allora io ne metto un po' sulle mani ho bagnato il viso lo massaggio tutto bene e poi con uno di quei pannetti che si usano per struccarsi lo vado a togliere indubbiamente quando voi passate una velina vedete che non è assolutamente rimasto niente sul viso vi sentite pulite però nello stesso tempo non vi sentite tipo tirare la pelle lo uso non tutti i giorni perché ho sempre paura che questi prodotti poi vadano ad ingrassarmi eccessivamente lo uso però quando mi sono truccata tanto quindi quando ho molti strati sulla pelle oppure sono stata fuori tutta la giornata quindi ho bisogno veramente di sapete che grasso toglie grasso e quindi di andare a togliere tutta la parte delle impurità che si sono depositate sullo strato di trucco che io ho messo sul viso soprattutto quando sto in città e poi eventualmente successivamente vado a detergere per togliere un po' la parte forse più unta che mi rimane che mi dà fastidio quando magari anche periodi ormonali periodi del mese eccetera però fondamentalmente non ho mai avuto problemi io odio in generale i prodotti che lasciano oleosità sul viso ad esempio i lati detergenti non andiamo d'accordo perché mi sento comunque sporca non pulita ho bisogno comunque di sciacquare sempre poi con l'acqua infatti molto spesso dopo aver passato il panno umido cioè dopo aver sciacquato passato il panno umido sciacquo anche bene il viso e poi ovviamente lo asciugo prodotto comunque validissimo anche a livello di inci poi la pazzia perché costa un botto lui sicuramente lo conoscerete io lo vedo sempre tipo nei bagni fighi di posti fighi dove vado soprattutto all'estero a Londra in tantissime in tantissime parti questo in particolare è il sapone mani leggermente sfogliante allora non so dirvi il essential oil è lavanda e fennel non so che cosa è il fennel ma ve lo scrivo qui è buonissimo cioè è buonissimo ce l'abbiamo da pochi giorni ed è già qua mi sento male perché comunque costa parecchio ho visto che anche questo su amazon lo potete trovare un po' diciamo a meno del prezzo che costa se avete dei siti ovviamente dove si può comprare un po' scontato ovviamente segnalatemeli voi una cosa che non c'entra niente con il beauty ma che vi volevo far vedere perché fa parte dei nostri regali che abbiamo ricevuto per il matrimonio da ovviamente amici e parenti allora questa si chiama sabonet paderno ed è della linea terra cotto è un po' una pentola che pesa come un uomo praticamente ed è fantastica spero che ho paura il terrore che mi cada perché allora è un po' il vecchio concetto di cucina cioè sapete che io sono diventata super fan del bimbi però indubbiamente ogni tanto alcune cose mi piace la metto giù ragazze mi piace cucinarle come una volta e siamo sempre stati fan della cottura nel cotto nella terracotta e fra aveva già delle pentole lasciate indotte dalla nonna e da sua mamma e quando si hanno regalato questa pentola abbiamo detto no meravigliosa a parte il colore bellissimo abbiamo detto bene cucineremo delle cose particolari ad esempio non so se avete mai avuto modo di cucinare nel cotto però la distribuzione del calore è diversa da qualsiasi altra pentola è molto più graduale e omogenea e alcuni alimenti ad esempio nello specifico i minestroni di verdura i passati di verdura le zuppe e quando facciamo i fagioli quelli stufati che poi mettiamo sulle bruschette oppure i fagioli proprio stufati con cipolla pancetta eccetera fatti lì dentro e fatti in una pentola normale hanno un sapore completamente diverso e comunque è una cottura molto più salutare perché non attacca praticamente mai sotto servono pochissimi grassi perché comunque anche a livello di zuppe eccetera a me non è mai successo che mi si attacchino sul fondo e non metto eccessiva parte grassa cioè olio o altro quindi è veramente un modo di cucinare alla vecchia maniera però molto salutare e ho visto ci sono vari formati infatti penso che ne prenderemo anche una un pochino più piccola perché ovviamente questo è molto grande e quando facciamo grandi quantità poi a volte sono troppe bene questi erano i 10 prodotti dell'ultimo periodo che mi sono piaciuti aspetto di sapere qualche vostro prodotto che magari avete da consigliarmi per provarlo nel prossimo periodo io vi mando un bacio e vi mando al prossimo video che spero di caricare prestissimo ciao ciao